www.containerradio.it Amici di Container Radio, quest'oggi non parliamo di musica nel nostro Information Desk, parliamo di libri, parliamo di cultura, parliamo di un bellissimo libro, un bellissimo regno devo dire, dove regna l'amicizia, questo un po' per entrare nel titolo di questo bellissimo libro, Ardalia, il regno dell'amicizia. L'autore Stefano Zampieri è qui con noi, anzi sono io con lui nel senso che sono proprio andato a trovarlo a casa sua. Ciao Stefano! Ciao Andrea, grazie di assoluto di trovarmi e grazie di parlare del mio libro. Allora, entriamo nel regno dell'amicizia, un regno bellissimo devo dire, ed è un regno dove dovremmo entrare un po' di più tutti. Sì, anche perché è un regno dove l'unica moneta che ha valore è l'amicizia, quindi è una cosa molto diversa dagli attuali regni della nostra terra. Assolutamente, allora, favole per bambini e genitori con disegni da colorare. Come nasce l'idea, l'esigenza di questo libro Stefano? Guarda, è nato quasi per caso, perché io è da tantissimi anni che scrivo e collaboro con vari giornali. Mi è venuto fare la voglia di fare una cosa completamente diversa, scrivere una cosa leggera, che fosse per i bambini, per riportarli al piacere di leggere e non al continuo uso dei telefonini e cellulari, e allo stesso tempo, costringendo i genitori a leggerlo prima, per ricordare a loro il valore dell'amicizia, del fare pace e tutte queste cose belle, anche loro tenendoli lontani dai cellulari. E questa è una bella cosa, devo dire, anche per i genitori, poi per gli adulti, per ridiventare un po' bambini, una cosa che quando si cresce purtroppo un po' viene a mancare. E' proprio quello che ho voluto riportare, perché adesso se accendi la televisione vedi solo persone che litigano, che se ne dicono di tutte le qualità su cose di cui magari non sanno neanche di cosa stanno parlando, e si dimentichano delle cose semplici del camminare assieme, del giocare assieme, di dire anche una stupidaggine, ma essere felici. Beh, è una cosa importante, devo dire, perché molto ma molto spesso ce ne dimentichiamo proprio. Esatto, questo io ho voluto dare, tutti questi piccoli impulsi, sono favole brevi, con animaletti umanizzati, dove in ogni favola c'è una trama che porta prima a un problema e poi a una maniera di risolverlo in maniera simpatica, gentile, così, facendo pace ed essendo sempre più amici, magari facendo festa con del miele e dei biscottini. Che non è male in effetti. Mi associo. Stefano, dove nasce questo regno? Allora, il regno è nato in un ambiente, le prime scene sono ambientate in un ambiente dove lavoro, cioè le colonne rosse, gli amici, eccetera. Praticamente la prima scena non è un segreto, è in una casa di riposo, dove tutti gli ospiti sono amici e si vivono trame ancora belle. Ovviamente poi la storia cammina e l'ambientazione in questo luogo chiaramente, poi la donna cammina, sono personaggi anche che ho conosciuto o consigli che vorrei dare a qualcuno. Diciamo, sono tante piccole storie, addirittura la storia vera di una cosetta che ha combinato il mio gatto che è riuscito a salvare un uccellino. Ma tutte poi naturalmente romanzate e viste da un narratore che passava di lì per caso. Bellissimo, assolutamente da leggere. E sono tra l'altro che questo libro ti sta dando delle belle soddisfazioni. Eh sì, è la cosa più bella che c'è. Ho deciso, quando ho dato il titolo, che amicizia non fosse solo una parola, ma diventasse realtà. E' a cominciare da me. Quindi ho deciso che il 50% di tutto il ricavato va in beneficenza e sto avendo delle soddisfazioni immense perché riesco ad aiutare nel mio piccolo qualcuno che ne ha veramente di bisogno. Beh, importantissima questa cosa. Poi tra l'altro, beh, un progetto che è partito a livello locale ma si può anche ampliare, vero Stefano? Questa è la mia speranza. Se è possibile presentarlo in varie riunioni, in associazioni, chiunque ne abbia voglia. Io sono disponibile anche a viaggiare, a presentare il mio libro e lasciare il 50% del ricavato alle associazioni che mi invitano se hanno delle iniziative loro positive che vogliono aiutare qualche persona che ne ha bisogno. Beh, ma vi hai fatto degli esempi prima mentre parlavamo tra di noi. Vuoi un po' raccontarlo anche ai nostri amici? Allora, il primo pensiero è nato in seguito a un'intervista che ho fatto come giornalista quando un frate qui di Deunigo, mio padre Alessio, mi ha parlato della mensa dei poveri. Per me è stata una cosa che mi ha colpito in maniera durissima e ho voluto fare qualcosa per aiutare queste persone che hanno veramente bisogno di un aiuto ogni giorno. Poi un altro pensiero l'ho dedicato a una suora di Sarego che lavora in un ospedale in Africa e anche con loro ho cercato di fare qualcosa di positivo. Poi è una scuola di infanzia sempre qui di Deunigo e adesso sto cercando qualche altra associazione fuori di Deunigo ma non c'è problema per dove sia proprio per dare l'aiuto che può dare questo libro che parla di amicizia ed è valida per tutti quanti. Progetti concreti quindi la beneficenza arriva sul serio. Sì, sì, io proprio prendo nota di ogni centesimo che viene incassato e si fa a metà e metà appena ce li ho li consegno proprio per non lasciarmi neanche prendere dalle tentazioni o da chissà cosa. È una soddisfazione mia personale, grandissima, sono regali che mi sembra di fare a me, portarli a chi ne ha bisogno. Quindi sono contento proprio di dare questo significato e l'amicizia a renderla vera. Complimenti Stefano per quello che stai facendo. Grazie, una cosa così bella che non mi sarei aspettato anche dell'interesse delle persone, persone che vengono a cercare il libro anche dai Friuli, qualche copia è già andata in Sicilia, qualche altra copia in Liguria, si sta muovendo e ne sono contentissimo. Parliamo del tuo libro, parliamo dei personaggi che sono contenuti all'interno, ce n'è uno che magari più ti è rimasto nel cuore? Allora, più di uno. Allora, sono tre amiche, una cucinella, una farfalla, un'ape che sono tra le protagoniste principali, che hanno mille avventure, ne combinano di tutti i colori e poi fanno pace. Poi c'è naturalmente un gatto, ci sono le libellule, c'è una maestra che anche lei ha queste esperienze e diciamo che nel panorama vengono raccolte tutte le esperienze di vita, quindi dal litigio, dall'accoglienza dell'ospite nuovo al rispetto dell'ambiente perché la natura è la nostra mamma e tu sporcheresti tua mamma mai, quindi la risposta è molto semplice. si parla della malattia, si parla del rispetto a se stessi, di non voler essere chissà cosa, invidiare, ma capire che le nostre potenzialità sono maggiori. Sono tutti questi episodi che danno tutta questa storia. Di bello dopo per i bambini, ma anche non solo, c'è la possibilità anche di colorare i disegni. Fantastico. Io l'ho sfogliato prima, è una cosa meravigliosa devo dire. Sì, cioè è una cosa che sento da molti, nella mia non modestia. Dopo devo ringraziare in maniera totale e assoluta una signora, la signora Anna Maria, che mi ha fatto il progetto grafico di questo libro, che è stupendo, vale più la copertina che quello che ho scritto io, secondo me. Cioè è veramente bello, e anche i disegni, praticamente ha reso qualcosa di veramente appetibile, anche perché andando in mano a bambini deve essere per forza bello e quello è merito esclusivamente suo. Allora, io direi che abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori. Domanda ovviamente principale, dove lo possiamo trovare? Allora, al momento lo distribuisco io, in riunioni, o se qualcuno mi trova su Facebook, o me lo chiede, cioè deve rivolgersi a me, non per cattiveria nel confronto delle librerie, per carità, ma così posso dare più soldi alle persone che ne hanno bisogno. Cioè, quindi il ricavato va direttamente alle persone che ne hanno bisogno, per questo al momento non è nelle librerie. Un domani vedremo. Beh, ovviamente mettersi in contatto con te è facilissimo, ci sei sui social network, su Facebook in modo particolare. Esatto. Su Facebook mi si trova facilmente anche perché in zona mi conoscono quasi tutti, poi Stefano Zampieri con il ritratto dell'imperatore e sono solo io. Bene, è fantastico, dai, lo dobbiamo dire, è una bellissima foto di copertina. Sì. Sì, è stato un gioco con foto di tocco fatte anni fa, mi diverte anche perché lì risulta ancora che i capelli scuri faccio più bella figura. Stefano, a che cosa stai lavorando adesso? Ci sarà un altro libro prossimamente? Adesso mi fai svegliare i segreti? Comunque sì, ho voglia di farne un altro anche perché molti me li hanno già chiesto, ho già scritto alcuni raccontini, ho già pronti altri titoli dove lavorare, naturalmente un po' di tempo magari un po' di ferie per dedicarmi alla scrittura, però scrivere è una cosa che mi piace e quindi spero che sia una cosa breve. Quindi ricordiamo ancora il libro, beh, titolo bellissimo poi, ma da dove deriva il nome Ardalia? Ardalia è l'anagramma di una parola che vedo tutti i giorni lavorando e mi è suonata bene e ho detto mi piace come nome ed è rimasto quello che non ho mai avuto il dubbio e poi il regno dell'amicizia chiaramente è proprio la storia che comincia con un narratore che vuole fare qualcosa di bello per gli altri stanco di scrivere cose cattive e casualmente grazie a due ironi trova questo castello e viene a sapere che lì il regno dell'amicizia e comincia a raccontare e ma ragazzi il resto lo dovete leggere sì anche perché come dico per chi si stancasse a leggere trova qualcosa da colorare guarda le figure e poi va avanti un po' la volta così dura anche di più allora ricordate Ardalia il regno dell'amicizia di Stefano Zampieri grazie Stefano grazie a te Andrea e grazie a tutti gli ascoltatori www.containerradio.it